A quel poco che riuscite a percepire, voci dall'infinito attraverso Wanda a cura di Vubi, i fratelli dello spazio. L'umanità trascura e non prende nessuna considerazione quanto avviene nel cosmo né il movimento vibrativo che tutto trasporta in un vortice di potenza, perché si accontenta di quanto sa e, a suo comodo, riduce questa grande potenza a un solo nome, padre. Sì, il padre di una creazione infinita, il padre di ogni piccola molecola, il padre che unisce il macrocosmo al microcosmo. Padre è però parola riduttiva di cui solo la mente umana può accontentarsi. Forza, potenza illimitata, grandiosità perfetta. Voi umani conoscete l'essenza rappresentata veramente da queste parole? Sapete dare loro il giusto valore? No! Vi perdereste come in un labirinto e la vostra mente fallirebbe al solo pensarlo. Allora riflettete, innalzate la vostra mente al di sopra di ogni pensiero umano, immaginando cose inimmaginabili e cercate di dare il giusto valore a quel poco che riuscite a percepire. Allora riflettete, innalzate la vostra mente al di sopra di ogni pensiero umano,